Siamo sul Belvedere di Serrara, avvolti nel fumo delle salsicce che stanno cuocendo sulla braccia e siamo con Michele Di Meglio, storico addetto alle salsicce qui a Serrara. Da quando è incominciata la salsicciata io sono stato sempre qua e quindi io sono il numero uno, tutti quanti sono scomparsi, io sono il numero uno. Allora io dedico una canzone a tutti quanti che saranno presenti. Ancora un litro di quel buono, oggi scordate la cavolo per tutti, che bello padrone che noi teniamo, manciamo e beviamo, ma quando si tratta di faticare, oi rego ci cambia a fare, se la quartiere, se la faticare, se la mangiare, tutto quanto è qua. Grande Michele, allora Michele ma quanta gente lavora qua intorno a te? Perché tu sei il numero uno però, c'è tanta gente. Siamo sempre una quindicina di persone, come non ci stanno, come aiutando, come alzano i grigli eccetera. Quante salsicce fai? Ogni sacra, quante salsicce fai? Oltre il 2000-2005. Ogni persona che viene qua, allora assaggire, se c'è di quelle, se c'è di là, se c'è di là, allora dici no, io voglio se c'è di qui. Che siamo? E quindi io penso soddisfatto di queste cose. Un commento su questa serata, c'è Tony Tammaro, c'è tanta gente, insomma Serrara sta facendo una bella figura. Sì, ma Serrara l'ha sempre fatta, meglio di fondare, meglio di andare, meglio di succhire, Serrara è il numero uno, numero uno. La storia di questa sagra, raccontiamo. Allora, sono 39 anni che noi ci troviamo in questa piazza, a portare avanti questa tradizione che nasce come una salsicciata e adesso il Festival delle cose buone è iniziato proprio dopo pochi anni, perché noi oltre alla salsiccia proponiamo la nostra insalata cafona e tante altre cose che negli anni abbiamo aggiunto. La cosa che più ci piace è lo stare insieme, quindi portare tanta gente qui a Serrara e stare bene insieme e ogni anno cresciamo. Di solito io sono alla cassa e ogni anno le persone che vengono, si tornano a venire e dicono signora quest'anno cosa ci proponete. Renato, un commento su questa serata. Una delle migliori serate dell'isola, l'unica che si sbocce qui ogni anno, la prima domenica, adesso l'abbiamo fatta il giovedì per avere un po' di gente in più. Il vino genuino, la salsiccia ancora più genuina di nostro paldo liberato, l'insalata cafona, che cosa volete di più? Le melenzane fatte ieri sera, ma ci metto a macerare apposta per farli andare ancora più genuini, più di questo non vi possiamo dare. Venite tutti quanti a Serrara. Alla salute! Grazie!